Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ma soprattutto benvenuti in questa primissima reaction della primissima giornata di campionato di Milan, scusate, di Bologna contro Milan Ragazzi, ho appena terminato di corsa allenamento perché appena ho concluso un allenamento con l'MSP Sto scappando direttamente verso lo stadio, speriamo di arrivare in tempo per l'inizio della partita Pierino è già là, giusto Pierino? Mi senti? Allora regà, Pierino è arrivato allo stadio prima di Samu, ovviamente che è sempre in ritardo Guardate lo stadio dall'Ara del Bologna in tutta la sua possenza e adesso parte l'ino ragazzi Samu, dove sei? Sta per inizio la partita, mancano tre minuti, muovi! Eccoci nuovamente qua, come avete potuto vedere Pierino è già là, lo so Pier sto arrivando Sto cercando di fare più in fretta possibile però avevo allenamento Questi due giorni prima della partita il Milan ha alloggiato praticamente a casa mia Perché per chi non lo sapesse io sono di Bologna, l'MSP è a Bologna Ma soprattutto hanno alloggiato a Zola Predosa, nella città dove sono cresciuto e nato E praticamente la Rafa Leao è venuto a 500 metri da dove ho casa, quindi da dove è casa mia Ragazzi e inoltre vi volevo annunciare che purtroppo o per fortuna live reaction delle partite non verranno più fatte su questo canale of Samwell Ma signori ho creato un secondo canale Samwell Afrie, andate a seguire tutti il secondo canale perché sul secondo canale andrò a fare le live reaction delle partite Quindi non le caricherò qui su off Samwell ma le andrò a caricare su Samwell Afrie perché nasceranno nuovissimi progetti su questo canale che presto vi svelerò e quindi non ci sarà più spazio su questo canale Mi raccomando iscrivetevi, link in descrizione su Samwell Afrie e ci vediamo direttamente allo stadio Andiamo, speriamo di arrivare in tempo, andiamo, andiamo ragazzi Andiamo a vincere Bologi Porca miseria ragazzi, è appena iniziata la partita, sono in ritardo, non ce l'ho fatta per l'inizio Mamma mia, sto correndo signori È cominciata la partita Sto arrivando Rafa Ok ci siamo ragazzi, siamo usciti ad entrare, manca veramente pochissimo No ragazzi, non ci credo, sono arrivato al gol Non si può approcciare così una partita, non si può No ragazzi, non ci credo Non siamo scesi in campo ragazzi, non siamo scesi in campo Come Samwell non è qui seduto Spessa cosa, sto un po' dentro di Paragonia, non siamo scesi in campo Proprio come Samwell non è qui presente Non ci credo ragazzi, sono arrivato al gol di Giulio Incredibile Wow, ora devo solo che trovare Pierino Samwell sta arrivando dopo 15 minuti di ritardo Ragazzi sono riuscito a ricongiungermi con Pierino Realmente dopo 15 minuti Leao si stava arrabbiando Porca miseria, sono arrivato al gol di Giroud, ci credete ragazzi Guardate quanto sono sudato ragazzi Ho corso dalla metà campo, da dietro casa mia fino a qua No, rispetto Non c'è più rispetto Non c'è più rispetto signori Non c'è più rispetto Allora attacca il Milan Sono arrivato a circa 10 minuti signori, non si sta vedendo il Bologna Attenzione è partito Teo 1-2 con Teo No Da quando tu sei entrato allo stadio è cambiata la partita È cambiata la partita È cambiata la partita Ci volevo Samwell, ci volevo Samwell qua Bologna È cambiata la partita E dai J.T.K Andiamo in Sambul Internazionale non è stato da più Lo scemo della nostra è stata più Cooling break Ragazzi, si sta scaldando il mio giocatore Eccolo Kevin Attenzione, è ripartito il Milan Milan attacco Palla dentro Butta via No Tiro al culo di Gio Attenzione Sta attaccando nuovamente il Bologna Rossi in mezzo da parte del Bologna È stato veramente pericoloso Mamma mia che giocata Mamma mia signori che giocata Palla dentro Ragazzi, che cosa sta combinando Pulisic È una roba incredibile signori Che giocatore Stanno giocando in una sola metà campo Sembra Porta Romana Porta Romana Porta Romana Football Challenge contro il Bologna Attenzione Contropiede per il Bologna Riparte Zygze Che allarga sulla fascia Può provare Attenzione Palla dentro Manca di un soffio e aggancio Pericoloso il Bologna Attenzione Calcio di rigore per il Bologna No, aspetta, aspetta Punizione Ah, punizione Manca praticamente un minuto alla fine della partita Va bene, va bene, va bene Calcio di punizione per il Bologna Può bastare questa punizione Wow Dai, ce l'hai È tua È nostra Fischia Dai No, alto Fuori 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 Alto E quindi ragazzi Finisce così il primo tempo 2-0 per il Milan Un Bologna tanto in sofferenza Come la vedi? No, un bruttissimo inizio Questa che è scesa in campo non è il Bologna Non è la squadra che mi aspetto Secondo me faremo un secondo tempo migliore Mai dire mai Forza ragazzi Vediamo e vedremo se nel secondo tempo riuscirà a fare meglio Allora ci vediamo direttamente per il secondo tempo A dopo Ok ragazzi È appena iniziato il secondo tempo Ci siamo Sentite il buato della gente Siamo pronti e carichi per questo secondo tempo Speriamo possa finire bene Oh, subito azione per il Milan Bologna l'attacco Supera Calabria Dai, è nostra È buona Fuori Gran palla Tira Cosa aspetti Perché è bello vero È fuori Tira Tira col pallone Cambio nelle fine del Milan Siamo al Oltre al settantesimo Esce Loftuchip Entra Pobega Esce Non ho capito chi Entra Ocafor Entra Calulu Entra Ciocuese Rimane in campo Raffaleao Penso sia uscito Giroud Ok signori Siamo arrivati all'ottantesimo 2-0 ancora per il Milan Partita rimasta abbastanza bloccata Mamma mia che giocato a Zipze Però che non se ne va via Il Milan si è comportato veramente bene La difesa sta giocando veramente bene Devo dire che oggi Questa sera Il reparto che sta facendo meglio È forse il reparto Difensivo E di centrocampo Perché stiamo reggendo Bologna Non è giustamente Un avversario Diciamo Come possiamo dire Come possiamo dire Non è tra le top Non è tra le top Non è tra le favorite La vittoria Questo sicuramente Però comunque sia Ha qualche elemento interessante Può ripartire il Milan Minuti finali Parte il tiro Rafa è stanco C'è da dire che ha fatto Una buonissima prestazione Rafa Ha giocato veramente bene Stiamo facendo sembrare Un fenomeno Raffaleao Anche se Non ha brillato Però comunque si è fatto Una buonissima prestazione Il nuovo equisto del Milan Diciamo che hanno fatto Per la stramaggior parte Tutti bene Molto bene Non è ancora finita Però siamo ormai All'ottantacinquesimo E 2 a 0 Se prendiamo due gol In 5 minuti O 10 minuti È Silica blackout totale Attenzione La caraffa No Palo Palo di Rafa Leao Il gollo Fai la prossima volta Al novantesimo No Mamma mia Sgasata Di Rafa Un bello Palo al novantesimo 5 minuti di recupero Ed è finita Signori Ed è finita E finisce ufficialmente Questa primissima partita E questo esordio Andiamo 3 punti Ragazzi 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 Grandissimo Milan Grandissima prestazione Vittoria meritata anche se il Bologna è stato pericoloso perché ha preso una traversa incredibile ma il Milan è riuscito a vincere qui a Bologna il signore è stato un magnifico video è stato un bellissimo video una bellissima reaction io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine vi ricordo di seguirmi sul secondo canale perché da oggi in poi tutte le live reaction tutti i video usciranno sul secondo canale quindi parleremo di Milan ci saranno nuovi format anche con la mia famiglia quindi mi raccomando ragazzi seguitemi tutti quanti link in descrizione sul secondo canale e ci vediamo nel prossimo video da Bologna è tutto adesso andiamo da Raffaleau signori andiamo da lui dal coro del Milan è Bologna dal Dallara è tutto dal Dallara è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi forza mila forza mila grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti